Ogni orecchio è unico, diverse forme, diversi colori, diverse misure. In Widex il nostro obiettivo è quello di offrire a sempre più persone la migliore qualità sonora racchiusa in un piccolo ITE. Ecco perché abbiamo creato il nuovo Widex Unique ITE. Abbiamo riprogettato ogni componente, riducendo le dimensioni del ricevitore, smussando di frazioni millimetriche gli angoli della bobina, ideando una nuova progettazione per l'amplificatore e introducendo un nuovo circuito flessibile. Abbiamo persino ruotato di qualche grado la batteria. Piccoli dettagli per un grande risultato. Dimensioni 40% più piccole, senza rinunciare alla comodità dei controlli. Oggi l'eccellenza del suono Unique è a beneficio di ancora più persone. Perché, anche se ogni orecchio è diverso, ciascuno merita di essere Unique. Unique Unique Grazie.